un altro aspetto che non è stato citato è se questa alfatocoferolo era naturale o di sintesi perché può sembrare di no ma le differenze ci sono assolutamente nelle frequenze in tutta una serie di cose un altro studio che demonizza la vitamina E è quello che è stato fatto sul rapporto tra assunzione di vitamina E sempre alfatocoferolo sintetico, guarda caso, è l'incidenza di tumore alla prostata sono riusciti a dimostrare in uno studio che è durato 10 anni, molto ampio perché ha coinvolto università inglesi, americane, olandesi eccetera e hanno dimostrato una relazione tra l'assunzione di alfatocoferolo sintetico e l'andamento o l'insorgenza di tumori alla prostata anche qui reputo di trovarmi di fronte a un caso di riduzionismo scientifico perché poi nello studio pubblicato non viene fatto riferimento alla dieta che queste persone che avevano queste problematiche stavano facendo nel momento e quindi io non sono sicura se l'effetto è da imputarsi in toto alla quantità di alfatocoferolo sintetico o in realtà al sistema complesso che mi riguarda l'alimentazione e lo stile di vita dei soggetti presi in esame ecco perché dobbiamo stare attenti perché per qualsiasi tipo di cosa io posso produrre uno studio che mi dice A e allo stesso tempo posso organizzare uno studio che mi propone esattamente il risultato opposto dipende dall'osservatore, da dove si colloca l'osservatore, da che cosa mi vuole dimostrare ecco perché tutta quella che è la letteratura classica è relativa quando io mi trovo a fare dei corsi, a tenere dei corsi per esempio sulla micronutrizione dove parliamo dell'integrazione con i biologi nutrizionisti appena laureati mi trovo spesso in seria difficoltà perché mi rendo conto che nonostante ci siano 5 anni di studio su materie, la biologia, il metabolismo della cellula molte cose che invece oggi tendono a essere anche divulgate a livello piuttosto ampio non sono state proposte come materia di studio quando parliamo dell'equilibrio acido-basico che va tanto di moda oggi ma anche qui dobbiamo andare a vedere non soltanto il discorso superficiale del residuo acido-alcalino che determinati alimenti possono produrre nel mio organismo ma che cosa questo poi va a significare nei sistemi più ampi del mio corpo ancora oggi se parliamo di osteoporosi noi ci troviamo professori universitari che scrivono e firmano e pubblicano articoli sulle riviste in cui dicono se volete ridurre il rischio di osteoporosi in menopausa donne fate movimento, bevete latte, mangiate latticini per garantire un apporto di calcio ma è di questo inverno questo articolo che ho letto di una docente universitaria piuttosto famosa al che io dico ma è possibile che questo possa ancora avvenire? è possibile perché a livello universitario purtroppo non sempre abbiamo il recepimento di quello che è la ricerca scientifica magari indipendente quindi non condizionata all'immissione sul mercato di determinate sostanze o di determinati prodotti è venuta dimostrandomi ancora oggi se noi parliamo con se io mi trovo con un problema di osteoporosi e vado dal medico il medico mi dirà mangia il parmigiano, beviti il latte, magari ti prendi lo yogurt fai movimento e in questo modo secondo lui oppure prenditi un'integrazione di calcio ma se io mi trovo in una condizione di forti acidosi tutto il calcio che assumo non farà altro che aumentare paradossalmente invece che andare nelle ossa andrà dappertutto ma non andrà nelle ossa e perché persone con l'osteoporosi si trovano alla calcificazione delle articolazioni si trovano la calcificazione delle arterie si trovano cristalli di calcio nella muscolatura con tutte le problematiche che questo causa allora non possiamo dire che noi abbiamo delle carenze di calcio dobbiamo dire che abbiamo uno squilibrio metabolico che impedisce al calcio di essere fissato nelle ossa e che me lo porta da tutt'altra parte con tutte le conseguenze del caso non è così semplice anche il discorso dell'integrazione non può prescindere da un'analisi della nostra condizione metabolica di base del nostro pH corporeo per esempio perché una cosa che io ho osservato sono i range nella diagnostica classica io vado a farmi gli esami del sangue e gli esami delle urine allora sappiamo che noi abbiamo degli intervalli di valori cosiddetti considerati normali non è vero non sono normali sono normali nel senso che oggi il nostro stile di vita produce quei risultati nella stragrande maggioranza delle persone ma non è possibile considerare un range di normalità un pH urinario di 4,5 però se voi guardate in molti laboratori il range, il periodo di osservazione di un pH urinario diciamo normale e accettabile che prima, fino a qualche anno fa era 5,5-7,5 oggi mi viene messo 4,5-7,5 cosa significa? significa che la media della popolazione si trova in una condizione di forte acidosi e questo non è normale è fortemente anormale infatti le patologie cronico-degenerative non è che di punto in bianco ma è un problema genetico attenzione allora che cosa è successo? che una mutazione genetica per cui prima un tunnel carpale mi usciva una volta ogni mai e oggi un sacco di persone escono con un tunnel carpale o l'ipercolesterolemia quando non sanno spiegarti perché il colesterolo ti schizza ma è un problema genetico c'è una familiarità non è vero sì, cioè è vero in un altro piano c'è una familiarità nei modelli di comportamento c'è una familiarità nelle abitudini alimentari nello stile di vita non nella genetica stretta però questi comportamenti alla fine vanno a influire sulla genetica come abbiamo visto stamattina quindi non è così scontato e la diagnostica normale oggi non ci dà un aiuto perché è fondata sulla problematica già conclamata i concetti di Pauling e di Ratt con la medicina ortomolecolare prima e con la medicina cellulare vogliono andare a creare prima di tutto un'educazione perché le problematiche sanitarie a livello mondiale nascono da quella che Ratt definisce analfabetismo sanitario l'analfabetismo sanitario non riguarda soltanto noi persone comuni ma riguarda anche la formazione degli operatori sanitari perché purtroppo ancora oggi nelle università non viene insegnato esattamente tutto quello che si dovrebbe conoscere riguardo al metabolismo esiste un'iperspecializzazione noi ci ritroviamo con l'ortopedico del mignolo sinistro per cui se avete problemi con il mignolo sinistro potete stare sereni perché ci sono personaggi che conoscono la fisiologia del mignolo sinistro così bene che risolveranno sicuramente il vostro problema ma se voi andate a monte scoprite che il vostro problema in realtà nasce da un eccesso di acido questi cristalli di acidi si sono depositati nel mignolo sinistro creando la problematica la conclusione volevo solo portare un attimo l'attenzione anche se sono cose che già sapete il discorso dello scompenso acido basico alla fine mi porta gradualmente a compromettere la funzione della membrana cellulare la cellula funziona quando può introdurre le sostanze di nutrimento e espellere le sostanze di scarto del suo ciclo di produzione ma questo può avvenire perché la membrana funziona con un sistema di pompe di scambi ionici questi funzionano soltanto se c'è un equilibrio acido basico cosa vuol dire se il mio sangue ha un pH ottimale di 7.3,5 circa e la mia cellula è acida come risultato del ciclo acido la scoria della produzione dell'ATP è acida allora se c'è questa differenza elettrica le pompe della membrana funzionano io posso far entrare le sostanze l'ossigeno nelle sostanze utili e posso espellere contemporaneamente le sostanze di scarto ma se l'acidosi compromette il mio pH aematico e io sono obbligato per tamponare questa acidosi ad andare a prendere sostanze alcaline dalle mie ossa e dai miei organi dai miei muscoli il magnesio il sodio il potassio li devo togliere dalle mie riserve pian piano il sangue perderà questa capacità e perderà la sua condizione ottimale di alcalinità e la differenza di potenziale che mi garantisce il funzionamento delle pompe di membrana si ridurrà e quindi la cellula non più in grado di liberarsi dalle sue tossine mi va in stress ossidativo e c'è la morte cellulare è il discorso dell'infiammazione minima persistente ossilente quando questo turnover diventa eccessivo la quantità di detriti della cellula morta che viene a depositarsi nel tessuto del mesenchimo nel tessuto connettivo è talmente alta che stimola il sistema immunitario lo dico in termini molto semplici perdonate la mancanza di dettagli e di nomi molto scientifici ma così magari è più semplice da capire il sistema immunitario attacca l'organismo nostro la base di tutte queste patologie autoimmuni di tutte queste reazioni di intolleranze di allergie nasce anche dal fatto che noi abbiamo questa infiammazione che è subclinica perché la VES magari non supera il range di normalità ma è sempre acceso il sistema immunitario e alla fine basta aggiungere un fattore X in più che normalmente non mi produrrebbe nessun risultato particolare per scatenare un'iperreazione infatti le malattie autoimmuni sono in netta crescita costante le artriti reumatoidi le problematiche l'apsoriasi le problematiche allergiche tutte queste cose allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere il nostro organismo nelle condizioni di eliminare gli eccessi di acido che evidentemente la nostra alimentazione continua a determinare in qualche modo se non siamo in grado di cambiare l'alimentazione dobbiamo trovare un altro modo per intervenire e bloccare questa costante depauperazione delle riserve del nostro organismo e dobbiamo dare al nostro organismo la possibilità di eliminare le scorie altrimenti il nostro organismo le sistema lì perché non gli vengono date le condizioni per eliminarle e questo è il substrato da cui poi si originano tutte le patologie alla fine lo scopo quindi la conclusione qual è? l'obiettivo primario della medicina cellulare è prevenire e curare le problematiche ma prevenirle prima di tutto nel momento in cui io sono in grado di fornire al mio organismo quello che gli serve e creare le condizioni ottimali queste malattie non si svilupperanno perché io garantirò sufficienti sostanze sufficiente turnover per scongiurare le condizioni che invece nel tempo vanno a crearmi le patologie dare alle cellule che sono trilioni tutto quello che gli serve per poter funzionare in maniera ottimale ma sostenere soprattutto la possibilità delle persone di accedere a queste informazioni basilari che mi consentono mi piace dire educare per motivare il cambiamento noi abbiamo una grande resistenza al cambiamento soprattutto perché non conosciamo a sufficienza come stanno le cose nel momento in cui io conosco veramente come funziona il mio organismo come funzionano le mie cellule la mia motivazione a sostenere la fatica e lo stress di un cambiamento è completamente diversa che se qualcuno mi dice devi fare questo e basta perché devo fare questo mi crea uno stress ulteriore a quello che io già sto vivendo ma se io so perfettamente ho compreso il perché questo è necessario il mio atteggiamento è diverso non va contro il cambiamento ma lo sostiene abbiamo la volontà volente ne abbiamo parlato questa mattina quando si vedeva il discorso della meditazione educare quindi le persone a conoscere il proprio corpo e a sapere come funziona educare anche i professionisti della salute che non conoscono magari ancora queste realtà per poter essere di reciproco sostegno e quindi lavorare sulla prevenzione primaria e non come succede purtroppo attualmente soltanto sulle problematiche che sono già conclamate vi ringrazio grazie a tutti